In questo video Apriremo insieme Il Booster Box Dal nuovo set base Pokémon Scarlato e Pokémon Violento Ma ci sarà anche dell'altro Azione Amore Eppure Un adulto che spende soldi in stronzate Che sarei io Benvenuti su Kane Universe Oggi apriremo il Booster Box Della nuova serie base Pokémon Scarlato e Pokémon Violento In versione inglese Nella box abbiamo le illustrazioni Che troveremo nelle bustine singole E dentro come al solito ci saranno 36 bustine Abbiamo 4 illustrazioni La prima con Corhaidon Swarovski Gyarados E i 3 starters E Ninaidon Apriamo la prima bustina Che... Ok Ok Ho un problema Nella prima cosa Questa sarà la prima E ultima volta Che provo ad aprire Una bustina con le mani Ok Ok Questo è il codice Per il TCG Online Usatelo pure se volete La carta di energia E iniziamo con Primeape Un misero tentativo di creare Un nuovo Pikachu Ma è tutto sommato carino Tarontula Rayolu Espatra Ragazza con una storyline orribile Totalmente basata su suo padre Cakturn Shroomish Varum E Gatto Furri ad un club di scambisti Abbiamo Crocorock Monkey Squawkabilly Capsakid Crocalore Floorgest Mach Slowpoke Caramella rara E Sicklyzar Cheap chop Pokégear Pokégear Floet Pomi Mach Vivillon Cinnamon Dog Capsakid Energy Search Uomo in una crisi di mezza età Ultra Rare Abbiamo un altro Varum Clouncher Skiddo Quaxley Giudice O arbitro Non so in italiano Come si è tradotto Floetzel Teamstar Crocorock Arma Rouge Magneson EX Ultra Rare Che immagino in italiano sia ultra raro Non sono sicuro Mongolfiera Viola Bambino dopo un incidente stradale Varum Magikarp Arven Cacturn Mesagosa Caterpie Peloso Chirlia Illustration Rare Skeledir Skeledirge Alohomora Pomo Tentacool Marcito Rotom Vivillon Daxban Tatsugiri Coniglio di Pasqua Iron Threads Che non ho una più palestra di dire come si chiama in italiano iX Illustrazione Speciale E Clefki Lechonk Growlit Staravia Ralts Moushold Crocalore Florge Flabibi Magnemite Pokémon 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 che viene fuori da un tunnel sotterraneo dove è stato rinchiuso per 13 anni Coniglio Pasquale Charcadet Lechonk Starly Lucario Rock Chestplate Setitan Paumo Drowsy Illustration Rare Questa è una delle carte preferite Una delle mie carte preferite di questo set Arcanine EX Special Ultra Rare Madre Surrogata Rosa Caramella Rara Fidog Deden Scovilain Torcoal Brilum Hypno Pokémon Catcher WWE Uccello Tarontula Wotrell Crocorock Monkey Fluffy Youngster Blissey B-Sharp Gogot e un altro Skeledirge Magneton Klawitzer Grívard Maskif Pokémon più brutto del mondo Mesa Gosa Pallone Viola Mabostiff Electric Generator e un altro Indeedy Quoxley Ponyard Crushing Hammer Starly Setitan Team Star Zangoose Un altro Padone Viola Un altro Zangoose Un altro Poe Mott Bruxis Bruxis Cacnia Sandile Merip Crocodile Flamigo Fortress Fortress Pozione Uccello Cattivo Miraydon EX Double Rare Abbiamo un altro Varum Magikarp Magnemite Tarantula Oh mio Dio Non direi niente Non farò una battuta 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 Giudice Cane che nuota Non voglio parlare di Penny Klefki E' un grande Granchio Peroso Pineco Fittal Fuococo Drausi Kilowatrel Gridant Crocodile Tatsugiri Experience Share Ce l'avevo sulla punta della lingua Come si chiamava in italiano E Iron Threads EX Squocabilli Capsakid Alomomola Pomo Jacques Floragato Zanguz Growlit Driflun E' un Anilihape Rare Nemona Lechong Flabibi Growlit Flamigo Forretress Rocky Helmet Cacturn Brinum And Armourge Rare Scatterbug Driflun Sprigatito Flittle Youngster Glissi Un altro Jack Starly Uber Uber Eats Per delivery Di bambini Full illustration E' un Miraidon Rare Toad 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 Rotom Chancey Caramella Rara Stone Joyner Penny Clowitzer Drowsy Arboliva Sbrigatito Cane Cane Che non vorresti Vicino I tuoi Bambini Cattie Staraptor Electric Generator Nest Ball Wow Un Miraidon EX Hyper Rare Quaquavall Rare Meditite Grimer Bruxis Cacnea Defense Band Driftbeam Nest Ball Arboliva Mabostief Anche questa è una illustration Rare And Kingdom Beat Magnemite Energy Switch Varum Clowncher Il personaggio più fastidioso mai esistito Mediton Quoxwell Cane Dolive Houndzone Floet Pumi Smallive Wiglet Ultra Ball Espatra Arven Kilowattrel Pineco And One Coridon Rare Seviper Cane Palla di neve Magikarp Floregato Zangoose Stonejourner Smallive Totkull Totkull And Another King Ambit Spregatito Fittles Viper Cane Beach Court Sandaconda Keti Indidi Un'altra Seviper E un Banette EX Rare Double Rare Cane Cane di fuoco Cane No cane Pallone viola Picnic basket Bombeardier Hypno Pumi Censi And Rivavrum Skiddo Quoxley Scovet Shark Cadet Experience Share Totkull Sickly Zard Totkull Pokéball Quaquaval Rare Raiolu Gogot Scatterbug Shoppet Hypno Iscriviti 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 Iscriverti Ti renderà felice Beach Court Sandaconda Kirlia Bugs Ban Arcanine EX Double Rare K3P Peloso Meditite Energy Search Grimer Brillum Kilowatt Rel Gridant Miraydon Rare Nemona E Haunson Smallive Wiglet Grievard Muskiff Tatsugiri Scovillein Torkoal Rotom Cloucher Miraydon Rare Sandile Merip Siricobra B-Sharp Pakirisu Picnic Basket Bombirdier Squawkabilly Jack Meos Carrada Flittos Rumish Monkey Shark Cadet Youngster Fluffy Blissey Vivillon Skiddo Unili Hape Rare Staravia Ralts Tandemouse Pokegear Mablestiff Maiale Grasso Spiritomb Tarontula Fidog Professoressa che vorrei Fuococo Drausi Ehi aspetta come si fa a forzare qualcuno a dormire Nemona Flabibi Siklizar Vitality Band Toxtricity Toxel Quoxley Slowbro Cane Orribile Graveyard Caterpipeloso Energy Search Cacturn Mesagosa Heracross Shark Cadet Cacnia Un'altra Banet Ex Fidog The Den Pineco Flittle Quoxwell Experience Share Toad School Alomomola Sprigatito E Don Doso E Don Doso Essendo questo un canale nuovo i vostri commenti like e iscrizioni mi aiutano usate Se vi è piaciuto il video mi farebbe piacere prendeste in considerazione di iscrivervi e spero che mi lascerete un feedback nella sezione commenti giù in basso E nel prossimo video apriremo le nuove Elite Trainer Box di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto E inoltre avremo Passion Questa è la mia giacca Scherzi Il maestro dice a Pierino Esistono mammiferi senza denti? E Pierino risponde Sì Mia nonna